ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato catturato da un esploratore urbano durante una sua ispezione in un luogo dove vengono avvistati ufo anche strane creature il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato iscriviti al canale Il video seguente è stato catturato da una telecamera con sensore di movimento. Il filmato mostra una creatura mostruosa che appare all'improvvisa davanti a questo ragazzo che non può fare altro che darsela a gambe. Ma andiamo a vedere il documento. Dal mio punto di vista le immagini non sono molto chiare, però vedendolo così sembrerebbe una specie di gorilla, però potrei anche sbagliarmi. Comunque fatemi sapere anche la vostra opinione su questo filmato. Dopo una festa, due ragazzi tornano a casa in auto. Ad un certo punto sulla strada notano una ragazza vestita di bianco. I due accostano l'auto e si fermano. Escono fuori dal mezzo per controllare se la ragazza stesse bene, ma una volta fuori dalla ragazza non c'è più nessuna traccia. Non notando nulla di strano, decidono di tornare dentro in auto ed è proprio a questo punto che succede qualcosa di spaventoso. Ma andiamo a vedere il filmato. Ma andiamo a vedere il filmato. Un esploratore urbano Entra in un edificio abbandonato. Durante la sua esplorazione riprende una strana figura in fonda di una stanza. La stessa, dopo, fa qualcosa di terrificante che terrorizza completamente l'esploratore. Ma andiamo a vedere il documento. Un esploratore urbano Un esploratore urbano Un esploratore urbano l'ultimo filmato mostra qualcosa di veramente spaventoso un uomo sente degli strani rumori provenire dal giardino di casa a quel punto decide di andare fuori per controllare ciò che riprende con la sua telecamera farebbe scappare chiunque ma andiamo a vedere il documento e anche per oggi è tutto ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao